1, 2, 3 Si chiama 27Lab ed è un laboratorio progettato e realizzato per creare nuove opportunità professionali per persone con disabilità. Un progetto che trova le radici nella volontà di perseguire l'affermazione dei diritti al lavoro e all'autodeterminazione degli utenti dei diversi servizi dell'Istituto Agazzi. Questa diciamo che è l'ultima di una serie di iniziative volte a garantire il diritto al lavoro per le persone con elevati bisogni di sostegno che si situa dopo l'apertura di un bar interno all'Istituto di Agazzi e dopo aver promosso delle mediazioni lavorative all'interno di cooperative e di aziende. Sarà così attivato un centro autorizzato a svolgere mansioni di imballaggio e confezionamento di generi non alimentari per conto terzi. La volontà è quella di fare di questa città una città sperimentale che sappia con la competenza e l'attenzione tenere insieme due mondi che fino ad oggi si sono parlati poco cioè quello del lavoro vero, buono, pagato e l'altra è quella della disabilità che non è preclusa all'attività lavorativa ma che ha bisogno ovviamente di alcuni percorsi di formazione diversi e alternativi e con delle attenzioni in più. Un'attività professionale organizzata come una vera e propria azienda con l'obiettivo di diversificare la gamma delle prestazioni per coinvolgere sempre più utenti dell'istituto andando così a concretizzare quanto espresso dall'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Abbiamo fatto varie esperienze di lavoro e questo è un tassellino in più che si aggiunge a questo mosaico che stiamo componendo. È un laboratorio che vuole dare risposte non solo ai nostri utenti dell'istituto di Agazzi ma a chiunque ne abbia voglia, bisogno, opportunità. Il lavoro spesso nella disabilità è terapeutico, è terapia, intendo dire, non è compenso economico soltanto.